Oggi voglio fare un annuncio. Mi ritiro e chiudo questo canale YouTube perché sono passati otto mesi da quando l'ho aperto eppure sono un punto morto e sinceramente non voglio né perdere più tempo io né soprattutto farne perdere più a voi. Io quando ho aperto questo canale l'ho fatto perché sono seriamente convinto che tutti quanti noi abbiamo le risorse necessarie per superare tutti quanti i nostri limiti e per diventare dei fotografi migliori ma anche delle persone migliori. Però qualcosa non è andata. A quanto pare qualcosa non ha funzionato perché ho caricato su questo canale 30 video incuriosito 920 iscritti però me l'aspettavo almeno il doppio quindi niente non ha funzionato. Addio. Scherzetto ci avevate creduto o magari ci avevate anche un po' sperato e invece era solamente una sceneggiata perché oggi parliamo di fallimento. Parliamo del mio fallimento del fallimento di questo canale ma potrebbe essere tranquillamente anche il tuo fallimento di qualsiasi iniziativa e di qualunque progetto. Il fallimento ecco potremmo parlare proprio del fallimento della nostra community di F4 o magari dalla nostra fanzine che hanno definito nell'ultima settimana inutile perché è priva di contenuti. In realtà basterebbe leggerla però benvenuti e bentornati amici e fenauti oggi vediamo insieme come affrontare il fallimento e la paura di fallire che vi assicuro mi bussa alla porta tutte le mattine. Ma proprio tipo drin drin buongiorno sono il fallimento che cazzo pigliatelo pure tu un giorno di ferie no ecco al di là di questa battutaccia vi avverto perché adesso che inizio a girare questo video non so esattamente quanto durerà avevo una cosa in testa ma purtroppo vado fuori vado fuori rotta perché questo video adesso l'ho pensato in tre parti perché sono tre gli argomenti che credo sia arrivato il momento di trattare. Quindi per una volta vi chiedo di portare pazienza e mettetevi comodi perché ci tengo e se aspettate poi fino alla fine vedremo insieme anche quattro piccoli suggerimenti per facilitare il modo in cui gestire il nostro fallimento. Prima però voglio iniziare con una precisazione e cioè soprattutto in Italia diamo al fallimento un significato che è assolutamente sbagliato perché lo consideriamo quasi come fosse una catastrofe. In realtà il fallimento è utile non è per forza vergognoso di solito la paura del fallimento funziona per estensione quindi dire per esempio che ho fallito oppure che hai fallito un obiettivo equivale quasi a dire che sono un fallito oppure che sei un fallito ma la verità è assolutamente un'altra e vale in tutti quanti i campi e soprattutto vale per chiunque perché tutti quanti dobbiamo imparare dagli errori. E io ho conosciuto personalmente centinaia di persone realizzate che hanno raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati ma queste persone però non hanno fallito di meno non hanno fallito meno della media anzi hanno fallito più degli altri. L'unica differenza però è che queste persone hanno imparato proprio dei loro errori soprattutto hanno utilizzato il fallimento come uno strumento e non più come una zavorra. Ed è proprio questo che rende le persone diverse e alcune di queste persone diventano speciali. Se immaginate, se pensate che Bresson, Noaget, Dualome, Jerovitz, Webb, Ghirri non avessero fallito vi sbagliate perché i loro archivi sono sì pieni di capolavori ma sono pieni anche di un sacco di fotografie di merda. L'uomo ha la capacità straordinaria di imparare dai propri errori ed è soltanto questo che distingue i mediocri dalle persone straordinarie. Quando io ho aperto questo canale è stato semplice perché non avevo assolutamente idea di cosa fosse un piano editoriale oppure di come funzionasse per esempio il self-publishing e di che cosa ci fosse là fuori in questo mondo elitario della street photography. E come diceva Darwin, l'ignoranza genera più fiducia spesso della conoscenza. Questo non vuol dire che adesso io sappia tutto, né tantomeno che abbia capito perfettamente come funzionano tutti quanti questi argomenti ma di sicuro ne so qualcosa in più e questo vuol dire che io adesso ho un obiettivo più alto, ho esattamente alzato l'asticella delle mie aspettative. Il punto di questo video però è che anche tu ti ritroverai nella mia stessa situazione prima o poi quindi anche tu come me vorrai mollare prima o poi perché nonostante tutti quanti gli sforzi ti sembrerà di non vedere mai un risultato quindi per esempio i follower non crescono, i like sono sempre quelli e il mondo là fuori sembra che continui ad ignorarti ti sembrerà perciò di continuare ad investire in un progetto in cui non creda nessuno e comincerei a sentire il peso del fallimento e le critiche ad esso avranno sempre un sapore più amaro. La paura di fallire di solito porta le persone ad evitare i rischi e a cercare invece un sufficiente livello di benessere ed il resto lo stesso psicologo Abraham Meslov nella sua piramide dei bisogni ha inserito la sicurezza proprio tra i bisogni principali di ogni uomo. Ma questa ricerca naturale però della sicurezza ha il rovescio della medaglia come rovescio della medaglia? Proprio la paura di fallire che invece è un meccanismo che inizia da quando siamo bambini cioè da quando i nostri genitori esattamente ci educano dicendo stai attento, non cadere, non farti male, non correre, non mettere dita nella spina della corrente vabbè quello ci sta, ci dicono non correre rischi e tutti questi sono esempi educativi che sono orientati a soddisfare però il nostro bisogno di genitori per la sicurezza dei nostri figli ma finiscono però con l'amplificare la nostra innata paura del fallimento e rischiano perciò di vanificare il rapporto sano che c'è tra il fallimento e l'apprendimento. Questo perché la nostra difficoltà di gestire la sconfitta è legata proprio alla scarsa esperienza che facciamo con il fallimento è una spirale, è esattamente il cane che si morda la coda perché noi siamo poco allenati nella vita ad affrontare le sconfitte ed è proprio per questo motivo che ne abbiamo una paura fottuta ed è questa paura che ci spinge a mollare perché non ci sentiamo pronti, ci sentiamo inadeguati non crediamo di essere all'altezza nelle situazioni ma quello che voglio dirvi però oggi è che io mi ripeto giornalmente è che i nostri progetti per quanto possano essere belli possano fallire perché falliscono i matrimoni falliscono le aziende, i libri non si vendono tutte quante le canzoni non possono diventare delle hit parade e non tutte quante le foto finiranno negli annuari oppure in una mostra fa tutto quanto parte del gioco è importante però capire sempre che cose ci guadagniamo noi quando iniziamo a giocare quando impariamo ad andare in bicicletta lo sappiamo già che cadremo così come sappiamo che cadremo la prima volta che metteremo i pattini ai piedi oppure gli sci e sappiamo anche che cadremo la seconda volta la terza e chissà quante altre volte e allora perché non fotografiamo consapevoli che possiamo sbagliare le nostre fotografie un certo Cartier-Bresson ha detto che le nostre prime 10.000 fotografie farebbero cacare, giusto? ecco, prima di imparare ad andare sul windsurf io mi sono schiantato in acqua e facendomi pure male centinaia di volte a dirla tutta non ho mai veramente neppure imparato ma conta quello che ho imparato cadendo conta quello che ho imparato in quel gioco che fossero i pattini oppure i windsurf o adesso la mia macchina fotografica conta esattamente quello che ho imparato in questi otto mesi di permanenza su youtube indipendentemente dai 920 iscritti dalle visualizzazioni o da tutti quanti i like che voi mi avete regalato quindi tutti noi possiamo decidere di mollare possiamo piangerci addosso ad ogni caduta possiamo rifugiarci nella nostra cameretta oppure nella nostra zona di comfort oppure possiamo decidere di non mollare di insistere possiamo insistere e soprattutto possiamo imparare ogni volta che cadiamo possiamo esattamente trarre guadagno da ogni tramvata che prendiamo perché è un'esperienza inestimabile è un bagaglio impagabile che possiamo portarci dentro in qualsiasi altro ambito della nostra vita non è restando a casa che si migliora e soprattutto non è rimuginandoci i nostri errori che si esce fuori dal pantano per non mollare l'obiettivo deve essere uno strumento e non deve essere più un ostacolo non può il nostro obiettivo diventare un limite devi fare in modo che il tuo obiettivo sia una priorità e per riuscirci devi farlo diventare importante e perché il tuo obiettivo diventi importante devi agire senza più paura di fallire e questo canale è importante nonostante siano pochi 920 iscritti ma ognuno di voi e a proposito non vi dimenticate di iscrivervi mi spingete a non andare avanti mi spingete a mettermi in gioco a provare a superare i miei limiti a continuare a studiare e soprattutto a continuare a confrontarmi ed è questo il motivo per cui io non mollo ma continuo, insisto perché se abbandonassi oggi questo canale io abbandonerei domani un qualsiasi altro progetto perché se mi arrendessi oggi imparerei ad arrendermi anche domani e così anche tu se continuerai a non iniziare il tuo cammino mettendoti veramente in gioco e non inizierai a provare a raggiungere gli obiettivi che soltanto tu ti sei prefisso non lo farei neppure romani perché continuerai a procrastinare nascondendoti sempre dietro ad altre 100 cose più importanti da fare nella vita perché di quelle le troviamo sempre non possiamo controllare tutto e quindi le sconfitte, la sofferenza, i fallimenti arrivano per tutti e dobbiamo soltanto imparare a gestirli e so che è difficile ma dobbiamo provarci lo stesso da tennista quando ero ragazzo ho sbagliato migliaia di diritti e migliaia di rovesci e ho perso centinaia di partite e da chitarrista non so nemmeno quante volte io ho steccato un accordo e da cantante sono anche sicuro di aver stonato in ogni esibizione che ho fatto però ho continuato a giocare finché mi hanno retto le ginocchia e continuerò a cantare e suonare finché avrò fiato questa in psicologia si chiama resilienza cioè quella capacità di flettersi a una forza maggiore senza spezzarsi e ritornare poi alla posizione originaria però con un bagaglio in più che ci permetterà anche di assorbire e superare la prossima tempesta perciò il mio invito è quello di non guardare più il fallimento come fosse un tabù ma vediamolo proprio come fosse un allenamento abbiamo soltanto da guadagnarci e adesso come promesso vediamo quei quattro suggerimenti necessari per affrontare meglio la paura del fallimento e per non farci trovare più impreparati primo proviamo a sviluppare ogni giorno delle competenze diverse e sì proviamo a imparare sempre cose nuove perché questo ci permetterà di vedere la quotidianità sempre in modo differente quindi vi dico di scattare fotografie macro paesaggi, ritratti eppure quei poveri gattini che sembra abbiano preso il posto della mela mangiata da Eva nel libro della Genesi due impariamo a vedere gli eventi negativi come qualcosa a sé stante e non più come un evento immutabile quindi abbiamo sbagliato il fuoco di una fotografia abbiamo sbagliato l'esposizione o la composizione e sti cazzi tre non cerchiamo sempre delle scuse alleniamoci piuttosto a trovare il perché dei nostri fallimenti e dei nostri insuccessi senza però per forza doverci considerare dei falliti oppure inadeguati e quattro per finire confrontiamoci sempre con gli altri e questo ci dà la consapevolezza che tutti quanti vivono i nostri stessi errori e così possiamo anche imparare dagli errori degli altri le esperienze condivise e credetemi sono la migliore enciclopedia che noi possiamo consultare e proprio da qui voglio iniziare la seconda parte di questo video perché alcune cose forse di questo canale della community di F4 e di me non sono ancora molto chiare e vorrei precisarle spero una volta per tutte e se qualcosa non piace a qualcuno quella è la porta perché il mio sogno è quello di evitare di essere giudici che per motivi personali io li odio da quando avevo 13 anni e mi piacerebbe invece che imparassimo tutti quanti ad essere curiosi so che questa può sembrare una fase un aforisma di caramagna ma invece un principio che ci dimentichiamo troppo spesso perché quando tu smetti di essere curioso smetti di farti delle domande e allora pensi di conoscere già la verità e parti subito con i tuoi giudizi pensando così di avere sempre ragione e proprio lì iniziano i casini so di non sapere diceva Socrate e mica uno qualunque parlando del nostro mondo e cioè quello della street photography trattata sui social diciamocelo pure siamo onesti è un cimitero di fotografi saccenti che aprono la bocca soltanto per dagli fiato con critiche sterili che sono fondate su quattro stronzate che sono scritte in libretti di istruzione delle macchine fotografiche oppure dalla definizione data di street photography da wikipedia sono persone che non dicono niente di nuovo ma che passano il tempo a giudicare e che tuttora giudicano senza porsi neanche il problema di approfondire quello che stanno dicendo come per esempio la nostra fanzine non ha contenuti mentre invece che bello che sarebbe il mondo se provassimo tutti quanti ad essere persone un po' più curiose io non chiedo neppure di provare a metterci in discussione e vedere se abbiamo ragione oppure se abbiamo torto basterebbe semplicemente che tutti quanti noi superassimo i nostri pregiudizi per abitare così un mondo migliore e per restituire finalmente slancio anche alla nostra cara e tanto amata fotografia di strada ammettiamolo siamo tutti quanti vittime del giudizio affrettato e frettoloso proviamo invece a fermarci un po' con umiltà e dire questo non lo so magari curioso un po' sbircio sbircio per capirci qualcosa in più magari imparo qualcosa mi faccio qualche domanda e vedo il mondo da una prospettiva differente che magari è proprio la tua e magari impariamo pure a stare zitti e non parlare sempre a sproposito ecco io mi domando e lo faccio in ogni situazione sto giudicando oppure sono curioso e invito tutti quanti a farvi questa domanda perché non fa male e questo ve lo garantisco e magari vi invito tutti quanti anche a chiedervi non come ottenere quello che volete ma chiedervi che cosa volete e se volete sapere che cosa voglio io ecco e restituire dignità e rispetto a tutti quanti gli appassionati di fotografia che vengono demoliti invece quotidianamente perché non fanno street come dicono gli altri perché a detta degli altri non hanno un proprio stile perché non hanno contenuto a detta degli altri perché non hanno un feed ordinato perché chiudono le ombre perché scattano con il full frame oppure perché comprono una laica e ancora gne 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 è perché gne 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 che a me della street photography come la intendono gli altri non me ne frega veramente niente io ve l'ho già detto delle etichette a me non interessa perché a me interessano i fotografi mi interessa perché tu fotografi e da lì mi interessa far nascere lo stimolo per migliorarsi se però è una tua ambizione personale e per chiudere in bellezza lo faccio con una citazione e cioè che quando giudichi qualcuno in realtà non stai definendo gli altri stai definendo te stesso e veniamo adesso alla terza e ultima parte ma non meno importante di questo video e lo faccio iniziando proprio da un'altra citazione di un certo Einstein la persona più citata al mondo che tra le sue massime diceva che la logica vi porterà dal punto A al punto B ma l'immaginazione invece vi porterà dappertutto tre anni fa io ho fatto uno dei miei viaggi in solitaria in moto e sono partito da Cosenza per fare il periplo della Sicilia alla fine del primo giorno avevo fatto 450 chilometri circa e circa dieci ore di viaggio mi ero arrivato soltanto a Villa San Giovanni qua gli amici la sera al telefono mi hanno chiesto ma che cazzo di giro hai fatto e io gli ho risposto in maniera così onesta semplice spontanea il giro migliore e mi spiego meglio qual è la strada migliore dal punto A al punto B tutti quanti risponderemmo questa qui che in realtà è una linea retta perché da Cosenza a Villa San Giovanni sono esattamente 181 chilometri di autostrada circa un'ora e mezza di viaggio ma i motociclisti gli artisti gli illuminati i curiosi gli appassionati i folli i sognatori sceglierebbero invece quest'altra strada è una strada piena di curve però a noi ci hanno insegnato che le cose migliori sono quelle utili facendoci perdere tutto quanto il bello che c'è nel percorso fin dalle scuole elementari ci hanno semplificato la vita perché diciamocelo in fondo che il nostro cervello è pigro e quindi non vuole sprecare energie la linea retta è la strada più veloce per raggiungere il nostro obiettivo ma non è mai la strada migliore è la strada migliore soltanto se abbiamo fretta quindi se la consideriamo la strada più veloce perché se non abbiamo fretta la strada migliore invece è quella fatta nelle curve perché è soltanto così che riusciamo a vedere milioni di cose la maggior parte delle cose che sappiamo in tutti quanti i campi compresa la street photography è frutto è frutto di un'informazione semplificata la maggior parte di quelli che si professano maestri tendono a superficializzare le informazioni e renderle più facili più friendly come dicono alcuni easy o anche sexy aggrindandole con parole sciantose ma restano sempre delle informazioni semplificate e invece io scusatemi se sembro pesante sono di un'altra disciplina ma non perché io sia speciale soltanto perché mi è stata insegnata questa disciplina da genitori che non avevano molto da offrirmi se non concedermi soltanto di fantasticare e da un paio di insegnanti che mi hanno insegnato che le strade diritte sono le strade della dittatura e le strade piene di curve invece sono le strade della libertà e della democrazia perché la libertà e la democrazia così come la cultura hanno tempi lenti non arrivano da quiz a risposte multiple oppure dalle filastrocche che si imparano nei workshop la street photography non è una strada dritta da A a B è una strada che è fatta di curve dove ognuno di noi scopre qualcosa di diverso che ci farà vedere poi domani nel proprio feed di Instagram e sti cazzi se come dicono i ben pensanti dell'ultima ora non è ordinato se il nostro feed non ha uno stile univoco se c'è troppa estetica e poco contenuto oppure troppo contenuto e poco estetica troppa moda troppa poca moda fotografate per voi stessi e scegliete le curve perché tanto basta per diventare fotografi migliori e soprattutto persone migliori perché cosa cazzo sono capaci di provocare le dittature lo vediamo già tutti i giorni al telegiornale ciao e alla prossima settimana e alla prossima settimana